Oggi si è svolta a livello nazionale ma anche a livello regionale la 26esima giornata il ricordo delle vittime innocenti di mafia. In Liguria come si è svolta questa giornata? In Liguria si è svolta su diverse sedi, in particolare io ho partecipato alla riunione che si è svolta al Teatro della Corte a Genova, a cui hanno partecipato le massime autorità civili e religiose di Genova e sono stati letti da ognuno di noi dieci nomi di vittime di mafia. Alcune illustri, importanti, conosciute come giudice Falcone, Borsellino, altre invece che rischiano di finire il dimenticatorio. E proprio da queste nasce l'esigenza di questa giornata, cioè di ricordare tutte le vittime di mafia a prescindere dalla loro notorietà. È stato il grido di dolore di una madre seguita dalla strage di Capaci a volere che Don Ciotti cominciasse questa iniziativa per Libera. Quest'anno, questa giornata forse è anche più importante perché in Liguria è stata istituita ex novo una commissione antimafia. Qual è il suo operato al momento? Sì, la mia commissione ha preso il via proprio quest'anno, io sono stato eletto alla fine di novembre, a metà novembre e abbiamo dovuto iniziare i lavori ex novo, cioè non c'è nessun materiale, nessuna esperienza in Liguria. È una commissione che è stata votata con Reggio Resonare in chiusura della legislatura scorsa e è cominciata in questa legislatura la sua attività. Ci siamo occupati per ora di raccogliere una messe di dati. Abbiamo udito prima Libera, poi il movimento delle Agende Rosse, è venuto il fratello del povero giudice Borsellino. Ho parlato personalmente con i quattro prefetti delle province Ligure e audiremo presto i presidenti delle autorità portuali, secondo un calendario di audizioni che dovrebbe portare ad avere un quadro della realtà regionale Ligure che non è così rosea come sembra, anzi è molto preoccupante in tutte e quattro le province. Il fenomeno mafioso non è solamente infiltrato, ma è molto presente anche al di là dello stereotipo del mafioso, anzi si parla in Liguria di mafia dei colletti bianchi, negli appalti, nel movimento terra, nei porti, eccetera.